vai uè ciao bello ascolta ti ho portato quella ultima roba che ti dovevo portare, tieni c'è un milioncino dentro, ora siamo a posto giusto? no per niente bello come per niente? eh la tua macchina mi piace molto, voglio anche quella eh ma la mia macchina è la mia macchina, non è tua ma che? così non si fa mio affare che è ammazzato il mio amico mi spiace amico, ora sei tutto solo ma eh vabbè io sono tutto solo? io non penso proprio che sono tutto solo, capito? cosa vuoi fare eh? no ma io non faccio niente però un'altra persona che sta dietro voi lo fa divertire cazzo vuol dire dietro a noi eh girati bravo eh ti ho detto grazie a Hasbullah grazie mille mi ha salvato il culo cazzo ora ci ne andiamo via vai oh bello hai qualcosa da acquistare? eh ma se sei qui che ne pensi? ok quindi come facciamo? eh dammi 2000 soldi sporchi vai 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 tieni grazie bello e così siamo a posto vai prendilo vai uno in più per regalino vai ti aspetto tra poco grazie bello vai ciao bello oh bello sei in stato di arresto ma che cazzo dici? che sbirri? polizia alza le mani eh io ho mani alzate che c'è? ah ma voi siete in tre siete in tre a casa mia chi è che devi venire? arriviamo arriviamo sì sì cazzo e questo? alza le mani vai che pensi che io mi vendo a casa da solo io? no no non mi ammazzate per favore finite questi sbirri ah eccola stai sbirri mi hanno portato via porco cane cazzo è questo uè bello bella sta ferrari eh si è stata appena si è costrata dagli sbirri ah eeeh eeeh sono io sbirro sono venuto a prenderla puoi abbassare? no 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 non sgancio niente e dai e questa è la mia ferrari mi hanno preso perché non l'ho pagato la parcheggio di merda no 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 devono venire in divisa con l'auto non gli spiace allora vattene via lo sgancio io cazzo vai via da qua lo sgancio io vai vai cazzo fangulo lo sgancio io allora vai e cazzo volete la mia ferrari? si si accosta ora non mi accosto più basta vai vai venite venite si ah ma che per favore mi portate via la ferrari perché non l'ho pagato il parcheggio ma vaffanculo sbirri oh 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 ora li fermo io vai vai venite venite vi faccio vedere come si fa si si vai vai seguimi seguimi coglione vai vai venite venite sbirri ah vaffanculo sbirri dove siete? ah stupide cazzo eh macchina di merda sbirri ma che fa questo? due parcheggi hai preso ma che cazzo è? uè bro sposta la macchina che hai preso due parcheggi il parcheggio è pure mio hai qualche problema? no io ho nessun problema però se lo sposti non c'è problema eh no questi due parcheggi sono miei ma che dici? dai sposta la macchina non fa furbo senti vattene via o ti arresto ah sei dei poliziotti va bene va bene si poliziotti va vabbè goditi i tuoi parcheggi vai eh vai 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 a prendere vai a prendere un bel big mac vai coglioni sbirri prendono soldi da stato e pure fanno strunzi eh pure fanno strunzi eh eh ora vi faccio vedere come si fa strunzi ah allora beccati questo eh oh ti piace la tua macchina? io voglio la tua la f*** macchina oggi compriamo una macchina nuova cazzo eccole qua i venditori eh quella rossa molto bella vabbè sentiamoci un po' quanto costa ciao belle vendete le macchine eh quanto costa questa? questa costa 3 milioni questa? quanto costa questa? 6 milioni non penso che te la possa permettere si si lo puoi permettere solo tu invece oh questa? allora questa è la ferrari molto bella sono 15 milioni bello ti pago 12 milioni subito ah no io gli ho 15 milioni subito se non ce li hai puoi anche andartene per me ma che è una macchina vecchia quella? ma che 15? oh non hai capito forse eh subito la piscota se non ce li hai puoi anche andartene va bene lo prendo gratis sta macchina si si vediamo come farai va bene va bene vai dmitri vieni qua prendi quella macchina rossa porta la via perchè qui mi è piaciuto tanto questo vai porta la via dmitri porta la via dmitri porta la via che bella la macchina è gratis bello quartiere dove è il mio t max? ma che fai appoggiato sul mio t max? che è bello? è tuo? eh si che è mio bello scusa pallo oh dimmi puoi scendere un attimo? eh dica dica non è che avresti degli spicci per mangiare sai no bello guarda dove abitiamo che pensi? che siete nuovi voi? eh si sono nuovi eh no no io ho solo moto e basta ho lavorato tante per averla allora ci prendiamo quella va bene che? alza le mani ma che? mi volete rubare al quartiere dove abitate cazzo? eh si sembri da solo quindi no io non abito da solo guarda io abito qui da tanto e con chi abiti? eh io abito con Asbulà eh eh e chi è questo Asbulà? eh è lui si è lui ah eh benvenuti nel nostro quartiere belle andiamo Asbulà quelle sono nuove giocate giocate uè cazzo vuoi coglione? ma vaffanculo sei te sei coglione cazzo cazzo c'hai nella valigetta operato? io nella quella valigetta c'ho costa più di tua macchina queste valigette vaffanculo cosa che hai detto? oh oh ma che fai? ma che fai? ma che fai? cazzo di cazzo di chi vuoi? oh 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 vaffanculo ah scemi di merda ma che cazzo è? oh io ho soldi in borsone porco cane fermati testa di cazzo oh ma vaffanculo cazzo coglione fermati coglione vieni vieni vai vieni vieni tu sei stato in max per cazzo vieni vieni si si i medi facciamo fuori coglione vieni vieni raga 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 aiuto aiuto raga aiuto 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 oh ma che succede qua porco due chi siete? chi siete? chi siete cazzo? andatemele vincere via è zona nostra è zona nostra è zona nostra è zona nostra via 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 dimmi bello oh carissimo mi puoi aiutare con la macchina? ma che è successo? non so non parte più dimmi che è successo? non mi parte più l'auto e non riesco più a tornare in città vabbè andiamo a vedere vai eh bro forse non c'hai benzina eh vuoi bello si è puntato a alzare le mani ma che cazzo è oh? carissimi salite sulla sopra va che è... ma che è sopra eh oh è la mia sopra ma che cazzo è? eh ora ci hai azzeccato eh bravi bravi eh vai diverti con mia sopra eh vai vai eh ora ti faccio diverti io vai vai coglione di merda siete pronti? eh almeno compro un'altra cazzo vabbè c'ho l'assicurazione di questo sopra di merda vai vai e te bello vieni con me a parlare o no? eccole eccole vieni fuori vieni fuori non sparare non sparare abbiamo uno stagio che stiamo facendo qua con uno stagio? stiamo rapinando va bene lo trattate bene? eh ora si eh per ora poi dopo no eh cosa volete in cambio dello stagio? noi vogliamo fuga fuga veloce va bene Dmitri lascialo andiamo andiamo vai Sbirri buonasera porco cane avangolo Sbirri avangolo non avvicinare vi spariamo cazzo sei pronto ad scappare Dmitri? wow oh sparano cazzo eh Dmitri non va più ci hanno bucato le ruote cazzo oh fermiamoci a mezzo ponte vai accostiamo ci arrindiamo ci arrindiamo tranquilli ci arrindiamo ci arrindiamo via 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 avangolo Sbirri via diamo Sbirri diamo Muno qui dovrebbe essere una bella fattoria che vende i cocobri eccoli minca quanto sono grosse cazzo allora andiamo a comprare un paio uè bello eh voglio tutto a posto lo vendi i cocobri? certamente abbiamo cocobri più belli e più buoni della città allora carichami un paio vai va benissimo vai ti apro il bagaglio bello va benissimo allora vai carichami qui dentro due vai questi cocobri è cioccolata signore cioccolata ma che cazzo è? ma che succede qua? è stato di arresto stia zitto prendendo la roba senza licenza ma io non ho fatto niente minca ma che hai fatto? che credimi non si toccano ha da capito? qua pulisco io e questa merda non vi preoccupate ah eccole eccole andiamo a parlare cazzo eh sono amichevole sono amichevole chi cazzo sei? sono amichevole che vuoi? voglio parlare con quello pilato voglio parlare io seguimi bello seguimi uè bello è successo un cosa io non sapevo che era questa macchina vostra eh se no non vi rubavo affari io tu lo sai che hai sbagliato a venire qua perchè ho sbagliato? sono venuto amichevole io ma tu hai comunque sbagliato alza le mani ma che? ma che vuol dire comunque ho sbagliato? si e ora lo paghi l'ultima volta eh va bene ho capito bene eh preso vai via vai va bene vieni vado con mia macchina vado via vai vai senza macchina come senza macchina? senza macchina a piedi devi andare via ok ok vieni vieni Dmitri vuoi bello? tranquillo ci penso io eccolo eh oh lo sapevo che va così lo sapevo che va così tranquillo adesso li buchiamo tutti ah pagherate lo pagherai voi coglioni vai vai attacchiamo a oh Dmitri sto iniziando eh vai tranquillo allora prendiamo la roba eh vieni Bancomat oggi te torna con me speriamo che non vengono gli sbirri vai BMW ce la fai cazzo a stacca sto Bancomat di merda vai cazzo vai eccola è apposta ecco gli sbirri porco cane due borsone basta dove sono i sbirri ancora non c'è oh Dmitri Dmitri sto arrivando ci sono i sbirri cazzo va vangolo a sbirri tranquillo ci penso io ballo vai Dmitri arrivo eh aspettami al punto arrivo va vangolo a sbirri accosti si si accosti ma va vangolo cazzo sono qua sono qua eccolo ti vedo monta piano vieni vieni vai vai parti 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 vai sbirri va vangolo a sbirri